Sì, anche il primo open day di tutta la mia vita come special guest, diciamo che di solito ero sempre dalla parte della studentessa che organizza tutto quanto, quindi so i ragazzi come si stanno muovendo, che sono comunque emozionati perché devono dare una buona impressione di questa scuola che è veramente comunque una buona scuola e sono contenta, è un onore di stare qua. Diciamo che dirò delle dritte, darò delle dritte a questi ragazzi per quanto riguarda il mondo del lavoro, perché comunque sono molto giovane, quindi coetanea loro, però comunque ormai è un po' di tempo che mi è cambiata la vita e che mi muovo in questo settore e in più dirò appunto quello che io vedo da parte degli stilisti, dei sarti che ci aiutano dietro le quinte prima di uno show, insomma dirò un po' di cosine carine. Il progetto più importante a cui sto lavorando si chiama From Sky to Heart, ovvero dal cielo al cuore, che è un'iniziativa da parte della Will, è un'equipe di medici che promuovono l'ingresso negli ospedali del drone defibrillatore, che è un intervento immediato rispetto magari a quello che può essere un intervento di un'ambulanza in caso di arresto cardiaco. Insomma, poi andrebbe fatto un discorso molto più lungo e approfondito, però brevemente è questo. Adesso a breve sentiremo anche un mio pezzo, che è stato scritto da un artista molto importante, che è Alborosi, è stato scritto da lui, è arrangiato da tante altre persone che fanno parte della One More Dub, Riccardo Ceramellari, che è il mio insegnante, il mio vocal coach, diciamo, e a breve sentirete anche questo mio pezzo. Che cosa ha cambiato? Tutto, tutto, ha cambiato tutto. Eh sì, sono anche maturata tantissimo in questi mesi, è cambiata completamente la mia vita, insomma, esco in giro per strada, la gente mi riconosce, sa chi sono, conosce la mia vita e io non conosco la loro, e poi comunque lavori nel mondo dello spettacolo, quindi con Mediaset, questo, quell'altro, insomma è tutto nuovo, però tutto bellissimo.